Oggi realizziamo l'azione DS Delayden Store con Tia Portal. Iniziamo subito. Abbiamo visto l'azione Delayden Store, proviamo a realizzarla con Tia Portal. Partiamo sempre dal solito progetto che avevamo preparato, quindi quello con i quattro stati, che è due pulsanti e quattro stati, quindi l'ho chiamato quattro stati, due button base. Lo carichiamo e poi lo salviamo cambiandogli il nome. Questo ho già impostato il mio tipo di PLC, quindi non vado a farvelo vedere un'altra volta. Entriamo direttamente nel progetto. Dunque ho caricato il progetto, lo salvo, quindi salviamolo con nome, lo chiamiamo azione DS. Una volta salvato possiamo anche intervenire con le modifiche che desideriamo. Allora qui abbiamo la configurazione perché ci servono i merca dei clochi di sistema. Ho selezionato il PLC, quindi faccio un clic qua sulla parte centrale. La compiliamo, compiliamo la configurazione, la carichiamo. Questo ci permette anche di configurare il dispositivo. Quindi lo cerchiamo, lo colleghiamo. Andiamo a aprire la tabella delle variabili. Vediamo come è impostata. Dovremmo trovare le quattro variabili di stato, S0, S1, S2 ed S3 qui sotto. Qui abbiamo poi i quattro LED 0, 1, 2 e 3. I pulsanti BT0, BT1. Aggiungiamo la nostra azione. Quindi azione sarà un merca. Quindi l'indirizzo abbiamo scelto di mettergli 5.0. È l'unica cosa che ci serve. Passiamo ora al codice. Andiamo nella parte con i blocchi di programma. Abbiamo il blocco main che abbiamo usato un po' impropriamente come blocco di startup perché vado a prendere il first scan. E qui dentro, già nello sketch con i quattro stati, avevo messo il reset delle quattro uscite con reset bit field. Sono tutte di seguito. Poi il reset degli stati. Il set dello stato iniziale. Possiamo aggiungergli anche il reset dell'azione per star sicuri che questa parte è sempre pulita. Quindi andiamo a mettere una diramazione. Qui vado a mettere azione. E qui facciamo sotto un doppio clic. Premo R. Facciamo il reset di azione. Così partiamo da 0. Andiamo a vedere il blocco degli stati. Qua niente di sconvolgente. È il solito blocco. Se sono su S0 e premo BT0. Imposto S1 e resetto S0. È così per tutti gli altri. S1 con BT1. Imposta S2. S2 stessa cosa usa BT0. Infine ho S3 con BT1 che però mi torna su S0. Andiamo a lavorare nel blocco degli stati. Doppio clic lo apriamo. Qui abbiamo gli stati base. Quindi con S0 attivo vado ad accendere il relativo LED. Quindi S0 LED0. LED1, 2, 3. E quindi fin qui è tutto chiaro. Allora mettiamoci nello stato 1. Cancello un attimo il LED. Abbiamo visto che devo usare un timer. Un temporizzatore TON. Questo scatta dopo il tempo impostato. Lo aggiungiamo. Crea un blocco dati con una variabile. Lasciamo quello di default. Impostiamo il tempo. Cliccando su PT. Mettiamo per esempio 3 secondi. Quindi 3S. Faccio invio. E T non ci serve. Che cosa va ad accendere questo? Va a impostare. Quindi farà un set. Quindi doppio clic sul simbolo. Piggio S. Va a fare il set di azione. Imposta azione. Però se abbandoniamo lo stato. Prima che questo sia scattato. Dovemo fermare il tutto. Quindi andiamo a inserire qui in mezzo. Tra il timer e l'azione. Un altro contatto legato a S1. In questo modo. Se ce ne andiamo da S1. È come se isolassi la bobina S. Quindi non può essere impostata. Anche se questo va avanti a correre. Per terminare l'azione. Dovemo finire lo stato S3. Quindi aggiungo una diramazione. E qui mettiamo finalmente. Un reset. Quindi una bobina. Doppio clic. Premo R. Di azione. Questo va ad azzerare l'azione. Se volete possiamo essere un po' ridondanti. Vado ad aggiungergli anche il reset del timer. Come abbiamo visto si può fare. Quindi vado a prendere nella sezione timer. L'RT. E posso aggiungerlo qui sotto. Ok. Proviamo a salvare il progetto. Lo carichiamo. Vediamo se funziona. Qui vediamo il PLC col programma caricato. Ora proveremo a spostarci. Vedrete che se vado troppo in fretta. L'azione non parte proprio. Ora attendiamo che parta. Vedete qui. Scatta. E sul stato 3 poi finisce. L'esercizio di oggi termina qui. Mi raccomando. Provate a ragionarci un po'. Magari fatevi uno specchietto. Che li raccoglie tutti. In modo che potete scegliere poi quando vi serve. Vi ricordo come sempre. Io lo faccio con T-Portal. Ma può essere applicato ad ogni altro tipo di PLC. Stiamo usando elementi standard. Per oggi è tutto. Vi saluto. Vi ringrazio. Ci vediamo domani. Ciao.